Ciao, sono Andrea, il bassista di VGM. Ciao, sono Titta, il cantante. Siamo qua nel sound studio di Vitigna e stiamo iniziando le registrazioni del nostro sesto disco. Veramente? Lo sapevi? No. Ottimo. Da quando? Da domenica 7 gennaio. Oggi siamo al 7 gennaio. Oggi iniziamo la registrazione del disco. Ma siamo pronti? Credo che di là Fabio stiamo facendo qualcosa per la battaglia. Adesso, state sintonizzati e li vedremo. Ciao, sono Fabio. Ma dove per noi farà un tantuno. Abbiamo qui Giuseppe Orlando. Giuseppe Orlando, ciao. No. Nel culo di Peppe. Ecco, poi Titta dice che devono essere scurrito durante il video. Io non sono scurrito. Tu altri assi non ce l'hai detto? Nel studio c'era una che però mi si era sparato il... Dico, tu mi hai ragione gli extreme drumming tricks. Il primo. Eseguire accordi sui tamburi usando una sola bacchetta. Un ambolo con la bacchetta. Fulano. Ne ho anche altri. Ma c'è anche la cassa, addio. Questo qua. Fa cagare. Ma è un trick. Ciao a tutti. Oggi è lunedì 8. E sono cominciato a fare le sezioni della battaglia. E non le scuole BGM. La battaglia è una faccia. Si, dai. Alcanzare. Un luogo. Faccio. Ilろi. Un luogo. Seguire. Una crosa. Un luogo. Un luogo. Ceci. Un luogo. Un luogo. Un luogo. Un luogo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.